Sono Francesco Pigazzini, sono responsabile metrologia e qualità del centro LAT e del produttore di materiali di riferimento SIAD e qui ci troviamo nella sala dove avviene la produzione di queste miscele di gas. SIAD è accreditata dal 2001 per la produzione di queste miscele, accreditata secondo ISO 17025 come laboratorio di taratura e accreditata sotto ISO 17034 come produttore di materiali di riferimento. SIAD sotto accreditamento produce miscele di gas, miscele di gas metrologicamente riferibili, ossia tutte le misure quindi di concentrazione sono effettuate attraverso una serie di confronti con campioni metrologicamente riferibili. Questo cosa significa? Facciamo un esempio semplice. Una volta che è stata definita un'unità di misura, ad esempio la vecchia definizione di chilo era un chilo è un litro di acqua distillata a 4 gradi. Da questa definizione viene prodotto un campione di riferimento. Da questo campione si possono produrre altri campioni e quindi iniziare una catena metrologica. Poi questi campioni verranno utilizzati ad esempio per tarare le bilance. Le bilance che utilizziamo tutti i giorni devono essere tarate e quindi hanno necessità che vi siano dei campioni metrologicamente riferibili. Queste miscele metrologicamente riferibili vengono prodotte utilizzando pesando ciascun componente che viene messo in bombola. A telescopo bisogna utilizzare materie prime molto pure e bilance molto sensibili quindi che pesano quantità molte basse nell'ordine dei milligrammi. o